Casal Taolero è tra le quattro aziende che per ora sta utilizzando il marchio trabocco dedicato allo spumante d'Abruzzo, DOC, però l'esperienza dell'azienda con la spumantizzazione non nasce certo oggi. Assolutamente, Casal Taolero ha come missione quella comunque di portare avanti, far conoscere diciamo in tutto il mondo i prodotti da vitine autoctoni e questo fa aderire a questo marchio collettivo sicuramente per noi ci crediamo tantissimo, tant'è che la nostra linea di spumanti Voilà che è un marchio storico dell'azienda l'abbiamo declinata e l'abbiamo convertita proprio a tutti i spumanti trabocco aggiungendo una nuova referenza che è la referenza rosè. Abbiamo comunque fatto un restyling anche per quanto riguarda l'etichetta e vogliamo raccontare queste bollicine, oltre ai nostri vitigni, comunque tutta la terra, tutto il gusto, il sapore che porta l'Abruzzo. A cosa vi siete fatti ispirare per il restyling grafico? Al trabocco ovviamente. Ebbene invece no, siccome abbiamo detto abbiamo voluto comunque mantenere la linea dello stile aziendale, non l'abbiamo voluto stravolgere, siamo andate a impreziosirlo comunque abbiamo pensato a un piccolo dettaglio, quello che quando su sei su un trabocco ci piace, tutti quanti fotografiamo il mare, il cielo, le stelle e quindi abbiamo aggiunto in questa stella il panorama che raccontiamo, diciamo che ci rimane quando assaggiamo una bollicina su un trabocco. Fermandoci all'etichetta, senza andare all'interno della bottiglia, l'obiettivo dichiarato, ambizioso è quello di lanciare un po' la sfida al prosecco, a livello estetico, ce la può fare l'Abruzzo? Assolutamente sì, nel senso che abbiamo tutte le carte per farlo, abbiamo comunque dei vini che non hanno nulla da invidiare, i vigneti sono su questa costa che è la costa dei Trabocchi quindi assolutamente non abbiamo nulla appunto da invidiare al prosecco. Quattro per ora le aziende che si freggiano del marchio Trabocco, tra queste c'è Citra che però non inizia a spumantizzare oggi? Assolutamente no, anzi grazie per questa domanda, per questa osservazione opportuna. Diciamo che la giornata di lancio del debutto di questo marchio collettivo così importante Trabocco, da un lato è un punto di partenza, dall'altro lato è quasi la fine o la prosecuzione di un percorso per noi ventennale. Citra ha già nella sua mission promuovere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, i vitigni autoctoni e noi la prima bollicina di pecorino l'abbiamo spumante, sempre metodo italiano, l'abbiamo lanciata nel 2008 e da lì in poi c'è stato tutto un lavoro di ricerca sia all'interno con lo staff degli agronomi e enologi di Citra ma anche poi con le università locali e con enti famosi come il Crivea che ha portato proprio a individuare le peculiarità per le quali i nostri vitigni autoctoni su tutti, pecorino, passerina, montonico, anche la cococciola e perché no l'abruzzo nella versione rosè, fossero delle ottime basi spumanti. Fino ad arrivare a una consapevolezza tale che ci dovesse essere un passaggio successivo con la nascita da un lato della nuova denominazione o meglio del marchio collettivo Trabocco e dall'altro lato poi anche di altre aziende per poter cogliere un'opportunità unica del mercato e far sì che ci fossero delle alternative altrettanto validi, importanti ai case history come Prosecco e Trento Dock. L'abruzzo non ha nulla da invidiare e attraverso questo nome bellissimo, identitario di un luogo iconico come rappresentativo della nostra terra, speriamo veramente in un traboccante futuro delle bollicine della nostra regione. Ecco, alla luce della vostra esperienza sono già parecchi anni, sul mercato si può essere competitivi come Abruzzo con regioni molto più blasonate e avanti nella spumantistica? Direi proprio di sì, ci crediamo fortemente, naturalmente ci vuole la giusta gradualità, non è che dalla sera alla mattina si può arrivare ai numeri del Prosecco. Partiamo da dei dati oggettivi, da ricerche di mercato. Negli ultimi anni l'unico comparto nel segmento vino con trend di crescita importanti è proprio quello delle bollicine, sia sul fronte metodo classico, Champenoise, che il metodo Charmant o metodo italiano. Tenendo conto appunto di quello che abbiamo evidenziato poc'anzi, che i vitigni autotoni della nostra regione hanno buona acidità, tutto un insieme di caratteristiche che permettono poi al calice di poter ammagliare i degustatori, starà a noi adesso la bravura su due fronti, quello comunicativo e distributivo. Però è veramente di buon auspicio.